Buonasera cari telespettatori e bentornati a Primo Cittadino per la quarta puntata della nuova stagione. Questa sera diamo il benvenuto a Sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Benvenuto Sindaco. Buonasera a voi e tutti i telespettatori. Vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33. Potete inviarci anche un breve messaggio di testo su WhatsApp al 338 49 68 250. Devo dire che già diversi messaggi sono arrivati in questa ora, quindi iniziamo a sottoporgli tra poco perché vorrei partire dall'attualità con il bypass ferroviario e la diatriba che si è scatenata in questi giorni. C'è chi parla di un'opportunità storica, di uno scippo di 1,8 miliardi alle marche che sarebbero serviti per garantire lavoro e crescita. La regione invece vorrebbe una linea parallela e arretrata rispetto all'Adriatica per l'alta velocità e i treni merci. Anche lei nei giorni scorsi ha ribadito la sua netta contrarietà al bypass ferroviario e addirittura si è detto pronto ad una mobilitazione. Ci puoi spiegare perché? Sì, il nostro pensiero è sempre lo stesso da diversi anni che è la strada che ha intrapreso la regione e il governo che secondo noi è quella giusta perché l'ipotesi di arretramento della ferrovia deve comprendere tutta la provincia di Pesorbino e anche la provincia di Ancona. Questo deve essere il primo step che è un primo step di buonsenso che guarda all'interesse dell'intero territorio regionale in una visione d'insieme che non deve riguardare pochi ma deve riguardare ad entrambe la provincia. Siamo nettamente contrari, l'abbiamo sempre detto, al bypass ferroviario sia con ipotesi a Fosso Segliore piuttosto che con ipotesi a Fano Sud perché sono entrambe ipotesi che dividerebbero a metà le città, a metà la provincia di Pesorbino e non fanno gli interessi dell'intera cittadinanza del nostro territorio e quindi saremo pronti a mobilitarci con tutte le comunità danneggiate eventualmente anche se questa ipotesi sembra ormai scongiurata. La cosa importante non è tanto quante risorse riusciamo a portare sul territorio ma è fondamentale come vengono spese e il progetto che sia un progetto lungimirante e che non segua gli errori che sono stati fatti anche nel passato. Ha già sentito altri sindaci o parlamentari della zona? Noi siamo in costante contatto con i parlamentari eletti a livello nazionale e a livello europeo, il confronto anche con gli altri sindaci dei comuni costieri la pensiamo tutti in questo modo e credo che sia la posizione più corretta per il bene dell'economia e del futuro della nostra regione. Passiamo sindaco all'ultima ondata di maltempo che ha colpito in particolare la zona di Marotta Nord. Le vado intanto a leggere un messaggio di un nostro telespettatore. Recentemente il sindaco di Senigallia ha lanciato l'idea di rivedere e ampliare il sistema fognario della città oramai desueto e non più adatto alle grandi piogge, anche se è solo uno dei possibili interventi per mitigare il rischio alluvioni. Ma che cosa ne pensa il sindaco Barbieri? È in programma di progettare interventi congiuntamente ai sindaci di Fanoi e Senigallia. Che cosa avete intenzione di fare per arginare questo problema? Sì, la situazione è complessa, soprattutto nel quartiere di Marotta Nord in cui il problema degli allagamenti è annoso e lo sanno bene i cittadini appunto della zona. Noi in questi anni abbiamo fatto uno studio molto preciso per quanto riguarda il quartiere di Marotta Nord dove abbiamo individuato le maggiori criticità. Una è la zona diciamo di via Corfu, di via Ferrari, di via Betti e l'altra zona del quartiere di Marotta Nord che presenta criticità è sicuramente il fosso di via Illica, quindi via Dalmazia e tutte le vie limitrofe che anche nell'ultimo evento avverso si sono appunto allagate. In questo caso siamo intervenuti intanto negli ultimi anni con la realizzazione di un nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche su via Corfu. Avete fatto vedere prima l'immagine e i lavori sono in corso di realizzazione, siamo intervenuti su via Corfu, siamo intervenuti nella zona Monte, siamo intervenuti su via Chienti nella zona a mare. A novembre quindi partiremo questo mese con i lavori in via Ferrari per poi proseguire in via Betti. Via Ferrari è la via diciamo più che soffre di più quando insomma si verificano queste condizioni meteo avverse e poi a primavera è previsto l'attraversamento ferroviario in cui lo scatolare appunto verrà spinto sotto la ferrovia e verrà realizzato il canale anche sotto la statale perché dico a primavera... Rivediamo un attimo che do alla regia il cartello inerente al discorso del sindaco è quello qua. Sì ecco l'attraversamento ferroviario sotto la statale sotto la ferrovia, i lavori sono stati affidati, il progetto è stato già condiviso e approvato da RFI, è autorizzato da RFI già da due anni, è stato finanziato, abbiamo già la dita pronta per eseguire il lavoro, la finestra però è il primo semestre del 2025 perché per realizzare il canale sotto la ferrovia dobbiamo rallentare, dobbiamo chiedere appunto il rallentamento dei treni della linea ferroviaria adriatica, rallentamento che è previsto per il primo semestre del 2025. La finestra che ci dà RFI altrimenti il comune di Mondolfo da solo dovrebbe pagare circa 1.600.000 euro soltanto per rallentare i treni per pochi giorni proprio per spingerlo scatolare. Quindi per evitare di spendere queste risorse, appunto RFI danno loro una finestra in cui devono comunque intervenire con altri lavori. E vado a leggere un altro messaggio, dal primo gennaio 2025 le tariffe idriche degli utenti di Aset S.p.a. aumenteranno di circa 8-10% mentre Aset S.p.a. prevede di ottenere dalle tariffe del servizio idrico un risultato d'esercizio di più di 13 milioni di euro nel quinquennio 2024-2028. Era proprio necessario l'aumento che graverà sulle tasche dei contribuenti? Voi avete avuto un confronto con Atto 1 Marche Nord? Sì, abbiamo battagliato tanto in questi anni sia per quanto riguarda le tariffe sull'acqua che anche per quanto riguarda le tariffe rifiuti. Quindi dal nostro punto di vista come comune di Mondolfo ci siamo sempre opposti a questo tipo di aumenti. Nell'ultima assemblea Atto è stato deciso dai comuni che erano presenti perché il comune di Mondolfo non era presente a quella votazione. Si è deciso di un aumento delle tariffe a fronte comunque di investimenti sul territorio e vigileremo e ci confronteremo perché gli investimenti vengano realizzati nel nostro territorio e quali tipo naturalmente di investimenti da parte delle aziende che gestiscono il servizio. Cambiamo argomento Sindaco. Sono passati ormai in circa sette mesi dal giorno dell'inaugurazione della rotatoria tra la Statale 16 e la Pergolese. Avete visto nel frattempo degli effettivi miglioramenti alla viabilità? Siamo molto soddisfatti. Penso che lo siano anche i cittadini di Mondolfo e Marotta perché in effetti era quello che dicevamo. Avremmo eliminato le code con l'eliminazione del semaforo. Infatti la viabilità è molto migliorata. Dovremmo avere anche delle foto. I commenti anche dei cittadini sono stati davvero molto positivi. Quindi questo progetto che abbiamo portato avanti insieme ad ANAS è stato molto positivo per il territorio. Se ne parlava da tanti anni e finalmente siamo riusciti da decenni siamo riusciti ad inaugurare quest'opera importante in un anno che è stato importante per più opere perché abbiamo potenziato le scogliere a Marotta centro e nella zona di di Marotta Nord. Quindi un altro intervento che i cittadini richiedevano da tempo. Abbiamo realizzato il percorso ciclopedonale centro croci San Gervasio. Abbiamo riqualificato il lungomare sud dal sottopasso Togliatti alle vele. Quindi tutti gli interventi che erano necessari per continuare a migliorare il territorio. Allora un altro messaggio. Le chiedono più controlli alla viabilità ai parcheggi sosse selvaggio a partire da via padre Muretti e altre vie, compreso appunto il controllo della velocità. Una ripetizione è possibile anche tramite gli agenti della polizia locale? Sì, sicuramente assieme al corpo di polizia locale, al comandante della polizia locale stiamo facendo diversi interventi su tutto il territorio che riguardano anche diversi quartieri anche in base alle segnalazioni da parte dei cittadini, sia per quanto riguarda il controllo della velocità ma anche per quanto riguarda la sosta selvaggia. Quindi continueremo a fare degli interventi in questa direzione, quindi prendiamo la segnalazione dei cittadini e insomma la giriamo all'ufficio di competenza. Sono stati anche completati i lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale in centro storico? No, sono partiti i giorni scorsi, la ditta che realizza la segnaletica ritornerà anche nelle prossime settimane perché continueremo sia soprattutto in via Cavour e in via Marconi e poi anche nella realizzazione appunto degli stalli per disabili che insomma sulla base delle richieste che sono pervenute dai cittadini e quindi realizzeremo più stalli per disabili, sia ne è previsto uno in via Mazzini, ne è previsto un altro in piazza del comune e inoltre interveremo con la segnaletica anche su altre vie del territorio come ad esempio via Molise che è una delle vie centrali in Amarotta centro e quindi anche lì è previsto rifacimento della segnaletica e poi proseguiremo anche nei prossimi mesi. Le manutenzioni continueranno anche per quanto riguarda la pulizia delle caditoie e dei fossi, anche per quanto riguarda le potature, in particolar modo nel parcheggio di via Brodolini che ci hanno state diverse segnalazioni da parte dei cittadini ma poi proseguiremo anche in via Ferrari, via Illica e in altre zone del territorio, via Marconi, via Cavour, anche fino alla prossima primavera faremo degli interventi riguardanti appunto le potature. Un altro messaggio per lei, la struttura ex ospedaliera Bartolini di Mondolfo è sede di una casa della comunità secondo la programmazione sanitaria regionale, attualmente però è di difficile accesso, ancorché limitata nei servizi diagnostici e poliambulatoriali, cosa pensa di programmare il sindaco per facilitare l'accesso e ampliare i parcheggi? È di vostra competenza in questo caso? Sì, intanto la competenza è dell'azienda sanitaria, comunque il comune, il sindaco si interfaccia costantemente appunto con l'azienda per cercare di migliorare la situazione, sicuramente l'accesso agli ambulatori medici che sono stati realizzati appunto dall'AST non è così semplice, sarebbe opportuno un collegamento dalla casa della comunità, dall'ingresso principale, l'abbiamo segnalato ai diversi direttori che si sono susseguiti nel tempo, abbiamo nelle prossime settimane in programma un sopralluogo con il nuovo direttore Carelli a cui faremo presente anche questa situazione. I lavori proseguono, quelli della riqualificazione della casa della comunità, sono lavori importanti per circa 400 mila euro messi in campo dalla regione Marche perché questa è una struttura che rientra tra le 29 case della comunità della nostra regione, quindi andiamo orgogliosi e l'attenzione sarà alta. Ha chiamato una persona per chiedere se avete qualcosa in programma per combattere il problema dei piccioni in centro. Sì, il problema è un problema importante e non di facile risoluzione, adesso stiamo predisponendo i documenti per il bilancio di previsione che approveremo a fine dicembre in consiglio comunale e lì prevediamo già alcuni interventi sugli edifici pubblici del nostro centro storico che abbiamo di proprietà comunali, in particolar modo vicino alla via nei pressi di via Garibaldi, quindi faremo degli interventi con gli aghi sui cornicioni per impedire il proliferarsi di questa problematica. Continueremo come abbiamo fatto con le diffide privati, ci vuole anche collaborazione da parte dei cittadini, di coloro che hanno proprietà sfitte perché il problema insomma è dovuto anche da quelle situazioni che si creano magari in alcune case che sono disabitate e quindi anche lì c'è un confronto con il privato per cercare di risolvere la situazione e di migliorarla perlomeno. Sindaco, abbiamo preparato oggi anche delle immagini per ripercorrere il tratto di pista ciclopedonale San Gervasio-Centocroci, vorrei riguardare con lei perché è stata un'opera anche questa tanto attesa e inaugurata, poi per l'occasione avete annunciato anche i lavori per l'abbazia di San Gervasio, ci può parlare di entrambe le cose, quindi intanto se viene sfruttata dai cittadini, dai turisti la pista ciclopedonale e poi quando partiranno i lavori per l'abbazia? Sì, viene utilizzata, è un percorso utile perché i cittadini di Ponterio e soprattutto di via Beato Angelico non avevano un collegamento per raggiungere il centro di Centocroci, quindi la statale, in questo caso la Pergolese che è di competenza ANAS è una strada molto pericolosa e quindi il percorso si è reso necessario per mettere in sicurezza i cittadini, anche per mettere appunto il collegamento a un sito storico di un inestimabile valore che è l'abbazia di San Gervasio, abbiamo messo in campo delle risorse sia ministeriali che comunali per oltre 100 mila euro, circa 120 mila euro per la sua riqualificazione dell'abbazia per risolvere il problema delle infiltrazioni, quindi per un nuovo sistema di drenaggio sia interno, per la raccolta esterna delle acque e quindi il miglioramento delle aree esterne di pertinenza alla chiesa, una nuova pavimentazione quindi che sostituisce la pavimentazione in legno che era obsoleta e ormai inagibile, quindi i lavori che sono partiti da qualche settimana e che proseguiranno fino circa ai primi mesi del 2025, quindi fino alla primavera per rendere ancora più fruibile e accogliente questo sito storico di grande importanza a cittadini e visitatori. Tra l'altro il 2025 sarà un anno molto importante perché è l'anno giubilare, quindi il giubileo è legato anche all'accessibilità e tra l'altro questo monumento rientra anche all'interno di un che è l'iter Suasannum che abbiamo costruito insieme alla diocesi di Senigallia, alle parrocchie e ai territori del comune di Mondolfo, di Castelleone di Suasa e di Corinaldo, quindi questo itinerario turistico e religioso che ci accompagnerà per tutto il 2025. Due messaggi al volo prima di andare in pubblicità, se è possibile implementare la videosorveglianza nel cimitero di Mondolfo e poi se sono previsti degli interventi nelle vie di Campania di Mondolfo via Monte Ciappellano, Rio Vaccaro, via Del Buzzo che necessitano di una manutenzione. Partiamo dalle telecamere? Sì, partiamo dalla videosorveglianza, quindi dalla sicurezza. Abbiamo negli anni realizzato il sistema di videosorveglianza che ha riguardato soprattutto Marotta, quindi le zone più critiche fuori dal casello dell'autostrada, davanti alla stazione ferroviaria, nei sottopassi, però vogliamo proseguire con l'implementazione del sistema di videosorveglianza, abbiamo parlato anche con il vice sindaco assessore della sicurezza di Otalevi, vogliamo implementare le telecamere anche nel nostro centro storico, prima ancora che al cimitero, quindi per il prossimo anno prevediamo di inserire appunto, di posizionare nuove telecamere nel centro storico di Mondolfo perché ne è sprovvisto attualmente. Per garantire la sicurezza in primis. Per garantire la sicurezza, ci sono stati diversi furti nel tempo e quindi vogliamo continuare ad implementare questo sistema di deterrenza contro i furti nelle abitazioni e poi proseguiremo magari in altre zone e terremo in considerazione anche la segnalazione del cimitero. L'altra domanda invece riguarda gli asfalti, in particolare nelle vie di campagna. Sì, ci sono diversi interventi da fare nelle vie di campagna, ne ha citate qualcuno il cittadino, ne cito altre io, via Passo di Rango, via Mengaccio, ci sono anche altre vie che necessitano di interventi. Metteremo nel bilancio di previsione 2025 risorse per la sistemazione di alcune strade, non voglio fare adesso delle promesse che riusciremo a portare avanti l'intervento su tutte le strade, su tutte le vie, però sicuramente in considerazione. Sì, guardiamo anche quelle che sono le criticità, quelle che sono le risorse che riusciamo anche a mettere in campo. Qualcosa metteremo comunque per la sistemazione di alcune strade del territorio. Sindaco, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta tra poco. Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Prima di tornare a leggere i vostri messaggi, sindaco, partiamo da alcune immagini, anzi o meglio delle fotografie che riguardano l'asilo nido. A che punto sono i lavori? Vediamo qua, ecco il cantiere allestito. Sì, questi sono i lavori del nuovo asilo nido Brontolo di Cento Croci, dove abbiamo demolito il vecchio asilo e ne stiamo costruendo uno nuovo di circa 770 metri quadrati, quindi più grande che ci permetterà di passare da 36 posti a 60 posti. Quindi un intervento fondamentale per ampliare i servizi educativi nella fascia di età 0-3 anni. Abbiamo lavorato tanto con l'amministrazione comunale per migliorare questi servizi, perché questo significa migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, delle famiglie. proseguiremo anche nei prossimi anni in questa direzione. Tra l'altro nelle scorse settimane, nei scorsi mesi, abbiamo inaugurato anche una struttura privata che è nata nel quartiere di Piano Marina, quindi attualmente abbiamo due strutture private e una struttura comunale, quindi questo rappresenta un incentivo importante per venire a vivere nel nostro territorio. arriveremo ad un numero che è significativo, che è quello dei 100 posti per il 2026, quindi andremo anche sopra quelli che sono i parametri dettati dall'Unione Europea. Avete riqualificato anche l'Istituto Comprensivo Fermi, tra l'altro lì prosegue la scuola di grafologia. Sì, lì è partita la scuola triennale di grafologia, era un punto del nostro programma amministrativo perché Mondolfo è legata a padre Moretti, in particolar modo il quartiere di San Sebastiano, è legata alla grafologia, se ne è parlato da tanti anni e adesso con una collaborazione con l'Associazione Grafema e con anche l'Istituto Comprensivo Fermi siamo partiti con questa scuola triennale di grafologia che viene svolta, le cui lezioni si svolgono il sabato nell'Aula Magna che è uno spazio aperto anche al pubblico che abbiamo creato con i lavori di adeguamento sismico della scuola media Fermi e rappresenta un progetto a cui teniamo particolarmente, ci sono anche diversi iscritti in questo primo anno, tra l'altro le iscrizioni sono aperte anche fino a dicembre e quindi siamo davvero molto soddisfatti perché abbiamo concretizzato una cosa che si parla da tanto tempo. Soddisfatti anche per il campo sportivo? Il campo sportivo del Marotta che continua la riqualificazione, i lavori, adesso siamo nella fase in cui è stato completato il manto in erba sintetica, proseguiranno nelle prossime settimane i lavori nelle mura attorno appunto al campo sportivo, quindi una nuova recinzione, una nuova recinzione anche interna, poi la nuova illuminazione, quindi speriamo di poter ridare presto alle società sportive e ai ragazzi questo impianto, la volontà dell'amministrazione comunale di continuare e di proseguire poi gli interventi anche nei prossimi anni per quanto riguarda le strutture sportive e continuare a migliorarle. Un altro messaggio per lei, purtroppo la polizia del centro storico lascia a volte desiderare, non pensa il sindaco di chiedere al gestore della raccolta rifiuti e spazzamento urbano l'impiego di ulteriore personale da pagare con i proventi della raccolta differenziata? Sicuramente si può sempre migliorare e anche da questo punto di vista diciamo che il precedente appalto, l'appalto in corso legato al sistema di raccolta differenziata prevede degli interventi comunque dedicati al centro storico, possiamo prevedere nel nuovo appalto un miglioramento di questi per cercare ancora di più di intervenire, attenzionare appunto il centro storico e continuare a migliorarlo. E' alta la percentuale di raccolta differenziata nel vostro comune? Sì, è una percentuale di raccolta differenziata più alta rispetto ad altri comuni della nostra provincia, siamo sopra la media regionale, sopra la media nazionale quindi quello è molto positivo e il merito va soprattutto ai cittadini di Mondolfo e Marotta che si impegnano nella raccolta differenziata. Cittadini virtuosi, invece sindaco per il ponte ciclopedonale ci può dare qualche novità? Anche qui proseguono i lavori del ponte che viene realizzato dalla regione Marche in sinergia con i comuni di Mondolfo e di Senigallia, i lavori devo dire che sono a buon punto e l'obiettivo che ci siamo dati e che si è data soprattutto la regione Marche insieme ai comuni è quello della primavera quindi di inaugurarlo per la prossima primavera, sarà un'infrastruttura importante per le nostre comunità che ci permetterà di rilanciare i nostri territori dal punto di vista economico e turistico e quindi non vediamo l'ora insomma di inaugurarlo come amministrazione comunale. Allora, altri messaggi per lei, vediamo se lo ritrovo perché le chiedevano di prevedere la sistemazione del sottopassaggio pedonale ferroviario all'altezza del ristorante Osi a Marotta Sud, quindi insomma una richiesta di riqualificazione e un altro messaggio invece, penso che si vada anche un po' sulla scia di quello che è successo, è stato previsto a Fano, è prevista una forma di partecipazione decentrata cittadina, al telespettatore si riferisce appunto ai consigli di quartiere senza il decentramento politico e amministrativo vietati, ciò scritto dalla legge 42 del 2010. Per quanto riguarda i consigli di quartiere al momento non li abbiamo previsti come amministrazione, ci penseremo se in futuro appunto attivarli o meno, quello che cerchiamo di fare come amministratori di essere presenti in tutti i quartieri, di cercare il più possibile di ascoltare quelle che sono le esigenze del territorio, al momento non abbiamo previsto questa forma di partecipazione, però in futuro non si sa mai, vedremo. Continuate Sindaco a ridurre le indennità non solo le sue ma anche degli assessori, vero? E poi insomma con quelle risorse li destinate, quei fondi vengono destinati a realizzare qualcosa per la comunità. Qual è stato l'ultimo intervento? L'ultimo intervento è stata la riqualificazione della sala di via Ferrari, l'ex sala della circoscrizione che è passata di proprietà dal comune di Fano al comune di Mondolfo, quindi era una sala che era chiusa da tanto tempo, ormai in disuso e quindi abbiamo provveduto alla sua riqualificazione, l'abbiamo aperta ormai da qualche settimana assieme alla cittadinanza e quindi è una sala che è prenotabile dalle associazioni e dai cittadini ed era una sala molto utilizzata in passato, poi con l'unificazione di Marotta era rimasta ferma e anche con le diverse sentenze in corso e ora è utilizzabile e fruibile da tutta la cittadinanza e anche dai cittadini non residenti. Prima di chiudere parlando di eventi invernali vorrei fare un attimo con lei un bilancio di quegli estivi, siete riuscite a raccogliere qualche dato perché abbiamo partecipato in prima persona ma anche delle foto in cui si vedono veramente tantissime persone, in particolare all'evento di Marottanta ad esempio, il concerto di RAF, appunto grandi successi, grandi entusiasmi. Sì, oltre a Marottanta, al festival della fisarmonica tramantici, come un libro aperto, la rassegna letteraria e quindi sono stati diversi gli eventi, anche quelli più piccoli ma sempre importanti, organizzati, realizzati dalle associazioni del territorio che ci tengo a ringraziarli come tutti i volontari. I dati abbiamo avuto questi giorni, i dati provvisori dalla regione Marche, dal 1 gennaio al 30 settembre sono dati molto positivi perché il numero di presenze è superiore rispetto all'anno precedente ma il confronto lo facciamo con il 2022 che è stato l'anno record per il comune di Mondolfo di 190.000 presenze tra gennaio e il 30 settembre e quest'anno invece siamo arrivati a 195.000. Sono dati... Un altro record. Ecco sì, sono dati importanti perché ci danno un po', ci dicono come va il turismo nel nostro territorio però puntiamo a migliorarci ancora, a collaborare, a confrontarci ancora di più con le associazioni di categoria, con gli operatori turistici e balneari, però sicuramente l'impegno è tanto e quindi c'è anche soddisfazione quando si vedono dei dati positivi che poi vedremo quelli definitivi insomma a fine anno, però i dati che ci arrivano sono dati importanti per il Mondolfo e Marocco. Poi creiamo anche un indotto economico importante, quindi... Certo, sì, è importante per le attività, per tutte le attività che sono sulla zona mare ma anche nel nostro centro storico perché stiamo promuovendo anche tanto il borgo, siamo andati su diverse tv nazionali quest'anno con il Giro d'Italia, con la trasmissione Camper su Rai 1, con la trasmissione Sky Calcio Mercato come anche qui a Fano, quindi tutto questo è importante, promuovere il territorio e cercare di farlo al meglio. Adesso si pensa al Natale. Pensiamo al Natale insieme alle associazioni del territorio che si occupano dell'organizzazione degli eventi, quindi il Natale sia nel centro storico di Mondolfo ma anche a Marotta, soprattutto alle luminarie e quindi per cercare di rendere più accogliente il territorio nel periodo natalizio. Sindaco, grazie per essere stato con noi, ci rivediamo nei prossimi mesi se ha piacere. Grazie a voi per l'invito. Grazie ancora al sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, un ringraziamento alla regia, noi ci vediamo alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla Notizia, a più tardi.